Nasce quattro anni fa sul territorio dell'Infernetto a Roma Sud e fin dagli inizi è stata un'azienda che è stata subito molto ben accolta perché il territorio è privo di questo tipo di servizio da parte di altre strutture sanitarie e quindi abbiamo subito avuto un buon riscontro. Ci è sembrato doveroso poter dare il nostro contributo a un territorio così basso e soprattutto siamo partiti nel cercare con la parrocchia territoriale di fare qualcosa a un punto di vista sociale. Da qui nasce un collegamento con un grossissimo momento a livello nazionale con la quale abbiamo scritto un accordo in cui abbiamo proposto circa 450 visite gratuita a tutte le persone che non ne avevano possibilità di usufruire. Immaginate se questo che è stato fatto da un'azienda singola possa essere esteso a tutta quella che è la rete dei servizi sanitari sul territorio nazionale ci sarebbero dei numeri incredibili con veramente un'assistenza sanitaria che pochi paesi possono a questo punto vantare. Pezzo che sia un progetto molto ambizioso ma sul quale comunque ci lavoriamo.